Gemma Lorsa Golosa è ancora protagonista nei Borgolacustre di Scanno. Nuova incursione della notte per la più anziana del parco con i suoi 25 anni. L'esemplare, che starò sempre confidente, si muove tra gli umani senza paura, sarebbe entrato in una pizzeria di Scanno nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e avrebbero vistato tra gli scaffali, gettando per terra le farine, divorando tutto quando c'era di commestibile. Il proprietario della pizzeria ha scattato le foto, allertato immediatamente i guardi a parco che sono intervenuti sul posto. Gemma, con la pancia piena, è stata trovata addormentata nelle vicinanze. Un paio di giorni fa avea fatto irruzione in un albergo, sempre a Scanno, la cittadina con il lago a forma di cuore, meta di tutti gli innamorati, divorando in cucina una crostata e una torta, sfornate per i clienti.